Vieni, bella, vieni. Ma che onore, che sorpresa, Annalisa nel mio ufficio. No, no. È Annalisa, la cantante, non l'hai riconosciuta? Eh no, e questa quando è entrata parlava, mica cantava. Ma che significa? Allora se viene la carra, la riconosci soltanto se fai il tucatucca. Dove vai? Vieni qui, chiedi scusa almeno. No, guarda, sono la figlia di Marcello. Ma non aveva detto che eri Annalisa? Io sono un tuo grande ammiratore, lo sai? Io non sono Annalisa, è solo una vaga somiglianza. Ah, vaga? Io la odio, Annalisa. Pure a me non mi piace. Ma come siamo cresciute bene. Papà mi ha detto che lei ha delle serate per me. Ma così ha detto papà? Eh sì. Pronto? Ciao tesoro, sono papà. La mattina non ci siamo visti, ti volevo salutare. Ma infatti, sei scomparso. Che scomparso? Non ti volevo svegliare. Oh, ma che carino. Senti, io comunque dormo da zianuccia, quindi per qualunque cosa puoi telefonare lì, eh? Ah, vedo che hai cominciato il corso. Come diventare un bravo padre in 300 chilometri. Sì tesoro, ciao. Eh, ciao. Ciao tesoro. Sì tesoro. Ma guarda che se non torni il tempo per Natale, vengo giù a Salerno e ti riporto a casa tirandoti per un orecchio, è chiaro? Però papà, ma come siamo cresciute bene? L'hai già detto. Eh, ma siamo cresciute troppo bene. Grazie. Grazie.